Buongiorno, il prefetto di Torino con un'interdittiva antimafia ha commissariato la Paro Olimpico che gestisce le strutture ereditarie dalle Olimpiadi, tra cui il Palealpitur, dove a novembre si giocheranno le APT Finals. Tra i soci di minoranza c'è un'azienda a rischio di infiltrazione di indrangheta, Marzia De Giuli. L'interdittiva antimafia del prefetto precisa che l'organizzazione delle ATP Finals non sarà intaccata. Quel che è certo però è che c'è un commissariamento che pesa per il rischio di infiltrazioni di indrangheta sulla Paro Olimpico. La società gestisce il Palealpitur di Torino, lì si svolgerà il prestigioso torneo di tennis che registra già il tutto esaurito per novembre. Il socio di minoranza è una fondazione composta da enti pubblici. Il problema sta nella compagine privata di maggioranza. Fra i grossi nomi compare una piccola presenza di Setup Live, società torinese che per lungo tempo ha organizzato appuntamenti musicali e fieristici, ora in liquidazione e oggetto negli ultimi anni di interdittive antimafia, con il suo ex patron Giulio Muttoni coinvolto in varie indagini. Il presunto legame con la criminalità organizzata sta in un'inchiesta dei carabinieri del ROS e della procura distrettuale antimafia sulle infiltrazioni dell'indrangheta nell'economia piemontese. Secondo gli investigatori, a uno degli ex soci della Setup Live, Lorenzo Larosa, sarebbero stati estorti numerosi biglietti omaggio da affiliati di primo piano e lui avrebbe chiesto aiuto a un'altra cosca. Episodi che risalgono ad eventi di una decina di anni fa, come anche chiarisce l'interdittiva del prefetto. Ma la stessa interdittiva parla di commissariamento preventivo per salvaguardare tutti gli aspetti di legalità delle ATP Finals. Insomma, ci sarebbero nuovi sospetti ritenuti ad alto rischio dietro un provvedimento tanto grave. E qui entra in gioco il ruolo dell'amministratore straordinario nominato, l'ex prefetto di Varese, Giorgio Zanzi. Entro un mese dovrà analizzare uno per uno tutti gli interessi che ruotano attorno al Palalpitur, di cui la Parco Olimpico è concessionaria. La società non ha gestito la vendita dei biglietti, ma Torino non può permettersi alcun passo falso su una manifestazione di livello internazionale che attrarrà un mare di denaro.